Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ti sono con mio amico Snake Bella E siamo in un gioco chiamato Killing Floor 2 Questo gioco consiste Tu sei un umano E gli zombie ti devono venire ad ammazzare, no? E tu li devi ammazzare Ci sono due modalità, o survival Che sono tutti umani e i zombie sono il computer Oppure survival versus che c'è un team di umani e un team di persone zombie Ragazzi Comunque Ale, Ale, quale vuoi fare? Survival DC o Survival? Survival E poi facciamo Survival DC Mappa, mappa Mappa, mappa, mappa Avantosto E io lo so perché vuoi fare avantosto E io lo so perché vuoi fare avantosto Ragazzi, lui dirà perché vuoi fare avantosto perché c'è un glitch dove gli zombie non ti riescono ad ammazzare Fai partire Tranne il Patriarca Tranne il Patriarca Tranne il Patriarca Che è più quello che tiene la minigun Aspetta Questo Snake Dove lo sai? Questo, qui Lui ha un comando di un soldato, lo SWAT Come è fatto da avere il cappello? Ragazzi, praticamente, perché l'ho acquistato Questo è il colpello E poi, con il triangolo cambia le armi Questa qua è l'arma del zombo È l'arma Andiamo, va Adesso Ragazzi, questo gioco è gratis Se lo volete acquistare Lo trovate in me No, no, Ale, ti sbagli, ti sbagli Era per il PlayStation Plus Non c'è più No È finito il PlayStation Plus Vabbè, ma non possono acquistare A pagamento A pagamento Costa così 30 euro Perchè un pochino Ragazzi Perché è un bel gioco Ragazzi, noi non faremo Faremo tanti video di questo gioco Di Minecraft, di Trove E di Watchtops Ragazzi, poi direte che potete acquistare E non lo faremo Visto, ragazzi, ci sono dei Ale, restiamo qua noi E non chiudere la porta Perchè la porta ci serve per il terzo ramo Che è il panicino Ah, sì, ragazzi Allora, più ammazzo i zombie Là c'è scritto È andata Oddio, 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 oddio Porca troia Le onda C'è scritto lì Che mancano tre zombie Sopra a sinistra Due Ne mancano due Ne mancano uno Ne mancano un zombie Per la prossima E l'hanno ammazzato Noi siamo vicini Apriti Ma noi dobbiamo andare di qua Ah, noi dobbiamo andare di qua Ragazzi, quando abbiamo finito il round Ci mancano un minuto e uno Ogni round aumenteranno il numero di zombie Sì Ragazzi, noi avremo la pausa di 53 secondi C'è scritto un altro sinistro Ragazzi, non è vero Un ignorantiello Un minuto Un minuto La luce dell'anima Oh, io mi compro la SMC del medico Ragazzi Mentre che aspettiamo Noi ci ricarichiamo le armi Mi sono comprato il pompa Mi sono comprato L'arma dei che mi dai i soldi Mi soldi Ragazzi, per comprare delle armi Che li ho ce n'è a zero Ce n'è a zero Mi sono comprato il mitra delle cose Che li ho ce n'è a zero Come si fa alla ricostruzione? Oh, guardate, a me mi hanno dato tantissimi soldi Mi hanno dato cinque, cinque, cinque Vai, dammi dei soldi Dammi dei soldi Dammi di tutti Le hai dati a lui No No, sono stupido Guarda, chi se ne è qui Mi sono comprato Io mi sono comprato il mitra Delle cose Ragazzi, no Ho perso il mio fucile a pompa Ho spiegato 107 zombie Andate, sono 7 2 su 7 C'è scritto Eccoli qua Eccoli Ragazzi, se moriremo faremo l'impettatore E ho dietro dietro a lei E ho dietro dietro a lei Però a me mi sembra poco più insieme E' da maneggiare troppo forti, non è vero Siamo scarsissimi Che cosa? Ma voi ragazzi Dipende che Ehm Ehm Quanti ragazzi Al giorno 4 video Ehm Al giorno 4 video Ma che cosa 3 video Quanti 3 3 video Ah Al giorno 3 video Ehm 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 Se mai Il prossimo Il prossimo Il prossimo Ehm 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 Grazie Mi curo No Ehm Ragazzi Io pure il fissio Io pure il fissio Per voglio ho lanciato i soldi a casa Ehm 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 Per voglio non te ne so Per voglio non te ne so Per te amico Ma quello la con la catara sta facendo tutto Ragazzi io ho fatto 43 kill 15 assist E 300 Prate io ho curato uno Io ho curato quel tizio Che stava morendo Io l'ho curato Io sono al commerciante Vi prego Ragazzi se tipo Ehm Avete la PS4 Ci volete mandare l'amicizia Non preoccupatevi Ehm Ve la accettiamo Ve la accettiamo Ve la accettiamo sempre Perché noi Non siamo in Xbox One Noi adoriamo PS4 Ehm Adoreremo tutti Sì Ehm Noi siamo fan della Sony A sempre Fan della Sony Come si fa a richiedere soldi Con la parte Con la facetta a destra Io mi sono comprato la tena Nooo Mi sono comprato la tena Vi avevate certi Quante vi avete certi Nooo che cazzuola seguitemi ragazzi grazie grazie minchia manca un 4 secondi mi compro la tua pistola la pistola fortissima raga seguitemi seguitemi raga seguitemi e non capisci non ti seguono fanno per i cazzo morava comunque c'è noi al terzo round già strano che siamo già al terzo 112 sono tanto speriamo che come possa scelta di anni il potere e la mia famiglia fa che c'è un padre anche con l'rpg ragazzi c'è un botto di ragnarolo ma vabbè c'è di te c'è tutti i tuoi aiuto ragazzi ok ok ragazzi quella in verità si chiama non vi credete non è per sportare nessuno è un grande non vi credete un grande però è solo per ironia è solo ironia ecco perché lo chiediamo così perché lo seguiamo perché ci piace è solo uno scherzo a me piace lo seguiamo è tanto quello seguo ragazzi se il mio telefono ragazzi se il mio telefono se squilla ma io non lo rispondo perché non me lo frega ma chi è il telefono ma chi è il telefono a che tempo è il telefono a che tempo è il telefono a che tempo è il telefono ragazzi richiedi denaro richiedi denaro richiedi ragazzi chiedi denaro richiede denaro non ce li ho i soldi li ho spiegati adesso a me mi servono i soldi anche la catana mi hanno dato la catana ragazzi mi hanno dato la catana mi hanno dato la catana grandi tieni un'arma che non ti serve un'arma tua che non ci serve oh mi dai il pompa tieni schiacciato il triangolo e poi r1 vieni di qua triangolo r1 no l1 l1 ma l'hai dato grazie è cattivo mi è fottuto ragazzi abbiamo la catana ragazzi io vi dico compratelo il gioco e bello poi all'inizio obblighiamo che non che bene ragazzi faremo solo una partita ma poi dopo tanto faremo anche partita perché che voglio mettere 15 minuti è troppo poco al ponzo non sto per finire il video ok ok poca montagna ecco ragazzi sono cresciate sto morendo sono morto ragazzi io me ne vado figurati se io ci resto figurati figurati se ci resto ne è che è morto ne è che è morto e stanno amarendo pure gli altri ecco stiamo ancora in parte stiamo ancora dentro e un po un po e infatti secondo te mancano 52 zombie non sei da solo eh ci stanno altri 3 cosa è Alfonso un tubo un tubo tanti proiettili come gta comunque ragazzi se volete giocare con voi ci mandato un messaggio sulla play se ce l'avete raga io sono snake trattino alto trattino basso io sono Alex vabbè ma poi se lo ricordo è sicuro vabbè tanto quello ve lo diciamo in descrizione lo vedrete in descrizione quando moriamo ci vedremo ci vedremo un pistoletto di ma comunque se è tutta luminosa vediamo questa qui questa è tutta lì si è questa è la tua lì 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 no io non sono il medico da campo no il mio amico no hanno sceso il suo anche se c'è il suo no 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 Ale scappa me la prego un capo porca trogliela che bellissimo zon di ce l'ho c'è una catana di qua Ale c'è una catana di qua se no io dove le trovo le munizioni adesso